Non dovrebbe succedere cosa questa in fabbrica. Perché è una zona industriale, non è una zona di vivere. Se si considera che c'è più di 4.000 aziende del ciclo produttivo cinese, uno si rende conto che quello che è successo ieri può replicarsi in qualsiasi momento e con la stessa o addirittura ancora peggiore risultato. Non si è visto crescere questa gente arrivata da Cina, però non si vede il governo, non si muove nessuno. Questa tragedia l'era bella annunciata.